Il marchio storico dal 1954 produce caschi e ha iniziato la produzione negli Stati Uniti e forse non tutti sanno che oggi il casco che si vende in Europa e in Asia è il casco prodotto in Italia. Questo è l'M5, è il casco oggi top della nostra serie, è top per due motivi, parte in ogni modo la costruzione, è una costruzione di fibre, fibre naturalmente, multiarsiale, carbonio-ramidica. La fibra multiarsiale ha un assolidimento di energia cinetica elevatissimo nel caso di deformazione. Naturalmente, sfortunatamente, se dovesse succedere un incidente, l'importante è che il casco assorba l'energia cinetica e non ve la trasmetta al corpo. Nessun casco normalmente vi fa rompere la testa. Sfortunatamente, molto spesso, gli incidenti fanno rompere la spina dorsale più che la testa ed è importante che il casco assorba l'energia cinetica, come le cellule di compressione nell'automobile. È fatto in multiarsiale, carbonio-ramidica laterale. Questo perché, essendo isotropico, non isotropico, ovvero sia, non avendo la stessa forma, naturalmente per motivi aerodinamici, il casco è stretto lateralmente e la parte laterale potrebbe essere più delicata, avendo uno spessore della parte polistirole interna. Allora, naturalmente, le due parti laterali sono fatte in carbonio, la parte centrale è fatta in multiarsiale. È un casco, come vedete, molto essenziale. La presa d'aria si manovra dall'interno, non ha, naturalmente, molti particolari in materia plastica esterni. Ciò che non c'è non si rompe. È molto essenziale e minimalista. È fatto per gente che, naturalmente, usa la moto per divertirsi e, in ogni modo, usa la moto a livello professionale. Come vedete, l'attacco visiera è fatto da due bulloni in alluminio aeronautico. Sicuramente non vi lascerà la visiera nel caso di ulto. L'interno è tutto sfoderabile. È un tessuto molto leggero, un tessuto che anche in estate non vi rafforgerà a fosodare. Lo potete vedere, ha una finitura che solo in Italia si può fare. La cosa importante è che, in ogni modo, tutti i nostri caschi, tutta la gamma di caschi integrali Bell, ha avuto 5 stelle dallo Sharp Test. Voi sapete che lo Sharp Test non è dato da una rivista o da qualcosa, ma è dato dal Ministero della Motorizzazione Inglese, che collauda a 8,5 metri al secondo, invece che 6,5 metri al secondo, tutti i caschi. Per cui, se fate il conto che la energia cinetica è determinata da massa per velocità al quadrato, aumentando anche di poco la velocità, aumenta il quadrato naturalmente di quel poco. Ciò vuol dire che i test dello Sharp diventano molto, ma molto più severi che il test della 2205. Naturalmente lo Sharp Test non tiene conto a tanti piccoli ammenicoli o cose che naturalmente non servono al motociclista. Tiene conto quello che veramente è la sicurezza. E naturalmente quello che vogliamo noi è dare realmente un casco sicuro. Il casco è fatto per salvarvi la testa, non è fatto per fare tante belle scene. È fatto per salvare la testa, per cui è il nostro compito. Questo, oltretutto, è un casco che ha un po' di particolarità. Viene fatto a mano, uno per uno, viene verniciato a mano. Potete scegliere anche voi il colore. Vi facciamo il casco, in quattro settimane vi consegniamo il casco del colore che volete voi. Lo potete programmare sul sito, lo consegnate al vostro negozio, entro quattro settimane voi ricevete il casco con la vostra colorazione. Naturalmente è un casco particolare, ma naturalmente noi facciamo caschi per motociclisti particolari, non per motociclisti comuni.